Gioca a rilancio Donald Trump nel primo comizio della sua campagna elettorale per il 2024 attaccando gli organi che stanno indagando su di lui per i fatti di Capitol Hill e per altri scandali il tycoon mette i repubblicani in un angolo e costringe il partito dell'elefantino a dover difendere il miliardario La campagna elettorale per le presidenziali statunitensi parte dunque nel peggiore dei modi come in molti avevano paventato